Daniela Poggi, grandissima artista, ma non solo, anche donna fortemente impegnata su temi importanti. Daniela, meritatissimo premio? Un commento sulla finalità ultima di questa premiazione, che è aiutare gli artisti. Aiutare gli artisti che una volta erano grandi e poi alla fine sono stati abbandonati da tutti. Questo è un po' quello che noi continuiamo a fare nel nostro paese. Non riconosciamo la straordinarietà, l'unicità di un interprete che magari oggi non è più sulla cresta dell'onda perché è il lavoro di meno, perché magari non ha più l'età e viene abbandonato e lasciato così, a volte anche morire su una panchina. Questa cosa mi addolora molto perché purtroppo succede spesso anche a registi, sono state fatte collette per registi, per attrici, per attori. Mi ricordo anche lo stesso Salvo Randone. Noi artisti abbiamo una pensione che è molto bassa. Io sono in pensione, per esempio. Tu sei attivissima, però. Ho una pensione di 1000 euro, adesso voglio dire, ho una pensione di 1000 euro e ho pagato i contributi per 40 anni. Ora voglio dire, che cosa potrei fare? Dove potrei andare a vivere oggi con 1000 euro? Io dovrei andare in un paesino, trovare una casa di 250-300 euro al mese e poi con i restanti viverci. Però ho lavorato 40 anni e ho pagato i contributi per 40 anni. E quindi su questo noi dobbiamo lavorare e ci lavoreremo sia con l'associazione della dottoressa Iannone che con il cantiere. Un'ultima cosa. Lei è una di quelle artiste che dopo una parabola ascendente è precipitata in un silenzio tombale, morta in solitudine. In tre aggettivi riusciresti a definirmi quest'icona meravigliosa o sono troppo pochi? Ma direi unica, una stella e una personalità straordinaria. Una personalità, forse c'è un'attrice o una donna o un nome che forse ha vissuto un'epoca e un film anche più grandi della sua stessa anima. E non l'ha capito al momento perché quando sei là, al top, pensi che la vita sarà sempre così. Quindi probabilmente non è stata capace di accettare che tutto quello che era stato era finito e che l'oggi e soprattutto domani sarebbero stati diversi. E probabilmente non è riuscito ad avere anche gli amici che l'hanno aiutata, che l'hanno supportata. Il nostro è un lavoro meraviglioso, il più precario dei lavori, però è un lavoro che oltre a un grande talento necessita un grande equilibrio. Un equilibrio interiore che ti faccia sempre, mentre stai volando con il cinema, volando su un palcoscenico, devi comunque avere sempre i piedi per terra e sapere che sei una comune mortale. Come dimostra Daniela Boggio, che veramente sa, sa veramente dove vuole andare, però lo dimostri, dai quell'idea, dai quella sensazione, Daniela. Ma per questo sei una vincente. Perché sono una brava attrice. Una chiusura fantastica, dai. Liberi TV, grazie. Iscriviti al nostro canale